Sono molto contenta, oggi rispetto all'anno scorso sono un pochettino più stanchetta dalla stagione. L'anno scorso con la scusa del Covid c'erano anche meno gare, quindi adesso arrivo i primi di agosto che inizio a sentire le fatiche. In più comunque era uscito anche il sole, quindi ho iniziato a soffrire gli ultimi chilometri, però nel complesso ho tenuto duro e sono riuscita anche a guadagnarmi la terza posizione. Sicuramente la camminata è una gara storica del cadore, sono sempre venuta a vederla e quindi per me è sempre un valore aggiunto. L'anno scorso con la mia vittoria ho comunque iniziato a mettere piede un pochettino nel mondo della corsa a montagna, soprattutto a livello comunque italiano e quest'anno ero titubante se venire perché ero stanca, però non potevo fare a meno di correre in casa.